radio forcella buona serata a tutti dal vostro gianfranco vi metto in descrizione due video importanti la mia e poi la seconda della mia amica ripley free ok mi raccomando ragazzi per vedere i miei video di radio forcella iscrivetevi gratuitamente al canale rambol forcella ok ciao a tutti e mi raccomando condividete tutti i miei video di radio forcella un abbraccio forte da gianfranco ciao